Calutè, potremmo definirlo un calvario per quanto ti riguarda, tra virgolette, no? Perché in questo giorno di ritorno non hai ancora collezionato presenze, purtroppo, per via di due infortuni. Esatto, purtroppo quest'anno è andato un po' così, perché sono fermato quasi cinque mesi per infortuni, però... Prima muscolare, adesso la caviglia, come stai? Adesso sto un po' meglio e spero di rientrare la prossima settimana, se tutto va bene. Quindi contro il Verona potresti essere a disposizione? Contro il Verona, sì, spero di sì. Anche perché questo è il momento decisivo. Esatto, e dobbiamo concludere meglio le ultime quattro partite, già da dopodomani. Billon ha detto in conferenza stampa, i play-off è tutto nelle nostre mani. E certo, dipende solo da noi, cerchiamo di vincere le più partite possibili e poi vedremo. C'è grande serenità nel gruppo, insomma, anche lo stesso allenatore che vi ha portato a cena, vi siete ricompattati ancora di più, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, però in realtà no. Esatto, anche prima c'era, magari questi quattro partiti sono troppo importanti, questa scena che ha fatto il mister ha aiutato tanto i compagni, quindi adesso siamo più uniti, diciamo anche un po' di prima. Senti, Carpi, che tappa è? L'ideale sarebbe vincerla, no? Per mettere una serie a ipoteca sui play-off. Esatto, è una partita dura, diciamo, perché Carpi sta cercando di salvarci, quindi fare di tutto per non perdere, diciamo che giocano pure in casa, quindi anche noi andremo lì per vincere la partita. Tu ci sarai a Carpi, nel senso che andrai con la squadra, no? No, no, sto qua a fare le terapie. Vabbè, buona Pasqua. Grazie, anche a voi.